Poi ci sono i tafanatori quotidiani, quelli che telefonano per dire a che punto siamo. Vediamo di sbrigarci con quel lavoro perché è urgente e si deve andare in tipografia. Ogni volta che suona il campanello o trilla il telefono, mi sento un tuffo al cuore. Guardo Anna con gli occhi di una bestia intrappolata e dico, vorranno soldi? Che dici? Eppure io resisterei alla fatica e all'assillo. La paura mia è che la salute non mi regga, perché un giorno a letto senza nessuna mutua vuol dire che non soltanto paghi medico e medicine di tasca tua, ma anche stai senza lavorare, senza produrre e perciò senza guadagnare. Peggio, una volta che ti capiti il bisogno delle cure e ti metti nelle mani dei medici, non la scampi più. Continuano a venirti per casa e ti scoprono malattie sempre nuove, ti operano da tutte le parti e ti salassano finché non sei morto. Io, lo giuro, non ho paura della morte, ma l'agonia sì, mi fa paura. Specialmente quando dura anni e ti mozza il lavoro e tu stai male, avresti bisogno di riposarti e di guarire, invece continuano a tafanarti i padroni di casa, i letturisti della luce, Mara con la comunione, le palline del bimbo, le tasse, i rappresentanti di commercio, i datori di lavoro, i medici, i farmacisti, le cambiali, gli esattori dell'abbigliamento. L'agonia continua fino a che tutti costoro sembra che siano il modo di levarti di corpo qualcosa ancora fino a che tu abbia la forza di continuare. Oh, poi, poi lasciano che tu muoia. È per questo che il viso dell'agonizzante ci si mostra sempre così terreo e stravolto, sta lottando non contro la morte ma contro la vita, perché pensa e si arrabatta di trovare i soldi per pagare il prossimo. Poi, appena morto, lo vedete distendersi, riposare e sorridere ironico.